Il primo pallone è nelle mani di Piacenza, lo serve proprio Diondi Leal che va subito a servire profondo Il pallone esce, forse non di tutto, il primo punto lo conosce a Sir Tirata molto bene, è cresciuto tantissimo Leon, fortissimo da Lucarelli, pallone alto, Stato Vrizar per la pipe di Leal Nascosta bene ma c'è la difesa di Perugia, allora Sir costruisce con Semenuk sulle mani del muro Ma il pallone ancora per Perugia, Giannelli, Pietro, Larry Klischi, passa in mezzo al muro Ma c'è Scamperla, Vrizar per Lucarelli, aggiusta questo pallone, si truffa di Klischi Il pallone ancora vivo, grande scambio, può ributtare solo di La Semenuk Allora l'appoggio di Romano, Vrizar dietro proprio da Romano, uno contro uno Ad una mano incredibile, pallone ancora vivo, Simone dietro per Lucarelli Il muro di Perugia, il pallone però cade, mani out, che scambio Allora Roberto Russo sceglie una metafora, flotte spin, ricezione di Piacenza, un po' difettosa E poi aggiusta tutto Vrizar con Simone, mani out Il muro che è cresciuto tantissimo ma nel fondamentale della battuta ha fatto passi da gigante E allora è subito Riccardo Lucarelli, Simone Giannelli Palla che flotta, Scamperla un po' staccato, Vrizar aggiusta per Leal Che botta questa di Leal Quarantuan, Vrizar spinge Piacenza, forte Ace della Gas Sales, Quarantuan Vrizar è 30-28 ed è 1-0 1-0 Perugia intanto con Kamil Zemenuk che trova subito un grande ace Ultima riga Forte da Plotnisk, ricezione spostata in 4 E poi una magia per Flavio che comunque non passa contro Simone Allora Giannelli per Zemenuk, il muro di Piacenza Si chiude Simone ancora forte, Piccinelli tiene Giannelli cerca la pipe di Kamil Zemenuk Lasciato tutto solo, non c'è muro Tira e chiude il Romano Che va fortissimo proprio su Riclitzki che teneva l'ultima mattonella Ballonetto che non tiene Leal il muro ed è 2-0 Gas Sales, Blue Energy, Piacenza Zona di conflitto, ci arriva Lucarelli, Simone ancora E la sua palla, la vuole, la sente, la gioca, la fa sua, 19-16 Il centrale della Gas Sales per forzare ancora Ace Di Robert Landy-Simon Forzare le 9 metri, cerca Zemenuk stavolta Palone che si impenna, Giannelli per Flavio Cerca una palla forzata, Giannelli Cambio palla, arriva subito Due match point ancora per la Gas Sales Yes Herrera, il suo mancino Forte, è finita, è finita I campioni del mondo battuti La squadra più forte del mondo Si inchina a mia scelta Che vince 3-0